La grotta ferrata, un punto da recuperare per la formazione rosso-nera. La time out è grandemente finale. Palla in mano alla formazione ospite della Stemmarra, civica vostra. La rimessa è Boffelli, sono solo 9 secondi e 4 metri per giocare questa palla. Allora Roberti da Boffelli, ancora Roberti, prova la percussione Roberti, la palla non va, la palla non va, con il pallo, il pallo di Campogiano. Manta un secondo e 35 secondi, il gruppo ferrata. Può festeggiare la salvezza diretta, senza passare dai play-out. 1.35 al termine. Avrebbe gestiato il pallo immediato, ma non lo fa. Manta un'altra, vista la partita, vista la diretta girata. 35 a 74. Questa è la gioia dei castellari, che si calderà senza passare dai play-out. Indipendentemente da quello che sta facendo il Figgi a Santa Marinela. Quindi Figgi è per l'altra, se Figgi, per il momento al secondo posto, se abbiamo messo il fondo Romero, riesce a battere i tochi avversari oggi. Questo è il risultato qui dal campo di Grotta Ferrara.